oltre 400 chilometri lungo le strade di puglia con lentezza a piedi o in bicicletta e mille buone ragioni per partire con lo zaino in spalla e il cuore che si fa sempre più leggero passo dopo passo il cammino di don tonino unisce le città di molfetta e alessano lungo i luoghi cari al pastore scomodo che marciò contro la guerra e vescovo col grembiule sempre a servizio degli ultimi un itinerario col vento fra i capelli e il sole in faccia al riparo dal superfluo per ritrovare se stessi e riconoscersi negli altri strade luoghi secolari visi storie sapori autentici melodie antichissime e cieli stellati attendono chi si mette in cammino in piedi costruttori di pace www.camminodidontonino.it